Eccoci con Diego Catino appena finita la partita, l'UFR l'ha ripresa da 3-0 a 3-3 a fine primo tempo la prima cosa che ti chiedo è guardandovi negli occhi ci credevate? Crederci ci crediamo sempre perché veniamo da una bella vittoria, oggi era importante fare il risultato peccato per come era appunto da doppio tempo e non era facile reagire però questa squadra come al solito nel momento di difficoltà tira fuori tutto quello che ha e anche oggi fortunatamente siamo riusciti a riprenderla sicuramente ti sarà da riflettere però perché rendere 3 gol in 20 minuti però è una cosa accettante Invece sul gol delle 3-3 ho visto un tuo velo davvero, permettimi, geniale poi è arrivato Lorenzo Catino, l'ha messa dentro, è arrivato poi il gol l'avevi visto? Un gesto distinto? Ci hai pensato? No, diciamo più istinto perché le poi sono quei giocate che ti escono una volta su 100 per fortuna oggi è riuscita bene, è andato bene tutta l'azione e l'abbiamo ripresa rimane giusto un po' l'amaro ma adesso pensiamo già alla prossima e pensiamo a fare altri punti in classifica per arrivare al meglio a fine stagione Grazie allora, buona serata e complimenti, ovviamente in bocca al lavoro per le prossime Grazie a tutti Grazie a tutti